Wonder Woman ha sconfitto Sub-Zero. Ora vediamo se riesce a liberare Superman dal ghiaccio. Brava Wonder Woman, hai liberato Superman. Stai bene Superman? Carl, cosa è successo? Stai bene? Qualcosa non va. I miei poteri hanno iniziato a fluttuare a partire dalla battaglia con Darkseid. L'ho tornato alla fortezza per cercare di scoprire il problema e Sub-Zero ha attaccato. Cosa mi sta succedendo? Deve esserci qualche magia all'origine. Per fortuna sono immune alla magia e così ha avuto quello che si meritava. Bruce ritiene che faccia parte di una forza di invasione. I supereroi di tutto il mondo stanno scomperendo, compreso Flash. E il nostro pianeta si sta fondendo con un altro, probabilmente Apocalypse. Apocalypse? Allora Darkseid è tornato. La vorrei entrare a Metropolis. Vediamo la stazione spaziale UN. Sub-Zero, chi c'è dietro a questa invasione? Voi siete gli invasori. Wonder Woman, qui è Green Lantern. La stazione spaziale UN è nel caos. Capitan Marvel è in grado a una crisi di frenetie e non riusciamo a contenerlo. E il mio anello è quasi in carico. Sarò lì il prima possibile. Tu verrai con me. Sub-Zero verrà con Wonder Woman. Mi sa che Green Lantern è in pericolo. Dobbiamo salvarlo. Guardate com'è arrabbiatissimo Capitan Marvel. Cosa hai fatto? Ti hai fatto? Arrabbiaci con super a tutti! Non se riesco a intervenire. Non se riesco a intervenire. Grazie.